Per noi questo premio è davvero molto molto importante, è segno che siamo sulla strada giusta, siamo entrati nel mercato italiano da poco nel 2018 e ricevere questo premio è per noi segno che i nostri clienti ci apprezzano davvero. Nel futuro vogliamo sicuramente continuare ad aprire nuovi punti vendita e vogliamo sempre espanderti sempre di più e rimanere sempre così convenienti all'insegna del prezzo Aldi.